ciao ragazzi buongiorno a tutte anzi buonasera a tutte perché ormai è sera dunque nuovo video che riccio sotto un po per la voce ma ho voluto fare sto video adesso non so perché ma vabbè dettagli e niente per il mio letto disfatto perché ho dormito fino adesso non so neanche scegliere 2.000 stanotte dove non lo stesso perché il mondo che torna e niente allora sto guardando un filo in televisione non so neanche che che film sia però per dettagli non è netflix stavolta e altro dove sia su su rai 2 e niente allora dopo questo video vedrete il video di prodotti finiti beauty e anche qualche mangericcio ovviamente dunque cosa dirvi di bello nulla di che è nulla di fatto nel senso che non sono riuscita a registrare finora perché un po per un po per mezzo di salute per mezzo della mia salute è un poco perché un ciclo anzi oggi con tuttora lo fare il video del 27 marzo perché il 27 marzo fa un anno al 27 marzo del 2020 perché siamo nel 2021 e quindi ho fatto ho aperto sto canale che era il 27 marzo del 2020 nel 2020 ho aperto questo canale e nel 2021 al 27 marzo fa un anno che questo canale è nato quindi vabbè prima ne avevo fatto un altro di ho fatto un altro come dire sì un altro canale che era il 24 dicembre 2013 l'ho cancellato ovvero non è che l'ho cancellato mi avevano troppi avvisi di corporate quindi me ne sono fregata e l'ho fatto sì l'ho cancellato perché mi ero stancata troppo per deciso di rifarmi la capo niente ragazze era solo per fare un detto un video breve che cliccio davvero la buonanotte anche se questa buonanotte non so se la vedrete prima o dopo non importa e ho dormito un bel poggio non so quanto dormito oggi in domenica tantissimo che si è così nel frattempo sto questo è truccare ma non ho molta voglia questo periodo di truccarmi se mi trucco per riuscire di casa ma per stare in casa mi trucco per poco niente praticamente pochissimo e vabbè pazienza dai ragazze niente non so se mettere in uno o in quell'altro ancora i prodotti finiti i biotti mangiare c c'è se raggiungere a questa clip il video di prodotti finiti più finiti più ti mangiare c c or si chiude a questo video mi sa che io questo libro lo chiudo e vi saluto e ne faccio un altro vedremo non avete a sinceramente già intanto aveva tutti i pennelli mi ha lavato anche qui vedete me lo tutti ben lavati non tutti tutti perché alcuni erano puliti già da un bel po' da quel dì che l'ho puliti però sto incontrando l'intenzione di utilizzarne anche altri che ho pulito e rilavato di pennelli di pennelli per il make up e vabbè parlo come bagno ma che è meglio e nulla che via ragazze io non so il tocco dirvi ci ci vediamo un prossimo video ok per la buonanotte che adesso non so se fare questo video domani o o stasera lo farò adesso dai come niente so che vi è piaciuto molto queste ricche le piacciono tantissimo e ho intenzione di continuo a farne questi video che ci e niente basta io vi saluto e ci vediamo in un altro video non sono toccosa a contarmi di giuro quindi io chiedo qua ciao a presto ragazze un bacio buon proseguimento dopo questo video vi auguro una buona visione sia per questo video che se ormai tu potevo dirlo benissimo anche anche prima di chiudere il video fa lo stesso e niente a dopo ciao